Nella prima base io devo andare a cambiare la sua mano, cioè devo fare un cambio di mano, quindi la sua mano destra, bacio la mia mano destra, non ci fa lei, me la porto, ho la sua mano, lei è saltata per andare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, devi continuare a camminare, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, sì, è lei, allora, ciao, dite, no, non lo ricordavo, allora, era così, però le mani, mi sembra che ve l'ha segnata così, sì, perché per forza, cercate di mano, sì, sì, per forza, chiedi, sì, sì, era senza, era bene, facciamo, 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 facciamo,